circolare a tutte le fabbriche del mondo siano esse per azioni o srl o come vi pare commendatore illustre le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei mio caro padrone domani ti sparo farò di tua pelle sapon di somaro ti stacco la testa che lucida e tonda così finalmente imparo il bowling miei cari compagni perché quelle facce ho detto qualcosa che un po vi dispiace si forza ecceduto non fateci caso vent'anni di rabbia fan parare così pensate che bello il giorno 21 padroni sono tanti e padrone nessuno pensate che bello pensate che bello sarà ma prima ti inchiodo la lingua al palato ti faccio ingoiare un pitone salato e con i tuoi occhi porcini e cretini alla mia ragazza farò gli orecchini compagni sia chiaro che il giorno 21 migliore vendetta sia proprio il perdono e allora saremo più grandi e più forti se tutti i rancori saranno sepolti però chi mi pagherà la gioia di vederti stargli appeso grosso grasso un te obeso proprio come un baccala chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì che ti importa se ti strippo se ti importa accendi un cero te lo spengo tutto intero tutto intero dentro il naso 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 tutto intero Grazie.